L'ex sindaco di Buonabitacolo Elia Rinaldi è stato rinviato a giudizio per l'installazione di un monumento in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale. L'opera in questione è il monumento dedicato alla memoria di Massimo Casalnuovo, il giovane deceduto ad agosto del 2011 nei pressi di un posto di controllo dei carabinieri. Lo ha deciso il GIP del Tribunale di Lago Negro e il processo si terrà a maggio del 2017. Oltre all'ex primo cittadino è stato inoltre rinviato a giudizio anche il padre del ragazzo al quale era stato indirizzato il monumento, che, lo ricordiamo, era stato collocato ad agosto del 2015, ad ottobre era stato rimosso per poi ricomparire in via San Donato. Le ipotesi di reato sono relativi alla violazione della normativa vigente in materia di urbanistica ed edilizia in assenza del necessario permesso di costruire, senza la redazione di un progetto e senza la direzione da parte di un professionista abilitato e iscritto nel relativo albo. Dalle indagini della procura della Repubblica di Lago Negro è emerso che l'opera è stata realizzata in una zona agricola senza aver provveduto a richiedere l'autorizzazione della soprintendenza per i beni artistici, paesagistici e culturali e senza aver provveduto alla variante. Il monumento, realizzato da un artista liteggiano e regalato nel quarto anniversario della morte di Casalnuovo, è stato ritenuto abusivo e quindi sequestrato.